Ciao mio caro amico aspirante trader professionista e profittevole Oggi è mercoledì 3 aprile 2019 e lascia che ti mostri quello che ho fatto Bene, come vedi questo è il range pitusa di ieri Ok? E abbiamo avuto quasi un inside day Eccetto che poi prima della chiusura il mercato ha fatto questo rally E ha rotto di pochi tic il precedente Anzi, è rimasto sul precedente massimo di un tic Ha rotto di un tic, come vedi E è rimasto sul livello del massimo overnight Bene, i livelli importanti della sessione pitusa di ieri Erano questa linea magenta, questa linea magenta tratteggiata e quest'altra linea magenta Durante la sessione overnight come vedi il mercato è andato fortemente a rialzo Già dalla sessione asiatica E infatti ci sono una distribuzione overnight qui e un'altra distribuzione qua sopra E probabilmente in prossimità dell'apertura stavamo aprendo di nuovo in forte gap up a rialzo Bene, queste linee color ciriano sono nodi di bassi volumi presi dal market profile della sessione overnight Il trade che ho fatto io è stato entrare short direttamente all'apertura Ok? Su questa entrata Veramente di rientro verso almeno questa linea Con lo ciriano del nodo di bassi volumi preso dal market profile Come vedi è questa linea qua Ok? Perché praticamente questo rally che è accaduto qua nella sessione overnight Per me era un debole rally e il mercato doveva andare a prendere gli ordini qui E a questa linea tratteggiata Questa linea tratteggiata è il P.O.C. della sessione overnight come vedi Quindi il mercato doveva almeno arrivare almeno fine qui E qui prima di poi invertire e andare long Ecco perché sono entrato short su questa entrata dinamica Bene, il mercato come vedi sono entrato Questo è il grafico a 5 minuti Praticamente il mio target è prima del WeWAP WeWAP questa linea nera sul SuperDOM E il WeWAP questa linea qua Come vedi la sessione elettronica overnight Bene, questo è il grafico P2S a un minuto Come vedi il mercato è aperto Andavo subito a ribasso con una forte confidenza E quindi io ero positivo Nel senso che sapevo che il mercato doveva andare a ribasso Almeno fino a questo nodo di bassi volumi Questa linea con lo ciriano E poi fino a questo P2S Queste linea strategiane Infatti il mercato poi vedi al terzo minuto Mi va a target e poi continua addirittura più in basso Poco importa perché con i primi 3 profittevoli di oggi Ho preso 312 dollari Bene caro amico Se anche tu vuoi fare questo tipo di trading O anche meglio di me Allora scrivi la tua storia adesso E mandami un link sotto a questo video Ti auguro grossi grazie su così profitti Ogni sua prossima sessione di trading Ciao dalmati Ci vediamo domani Al prossimo 3 profittevoli Ciao